Ciao a tutti e ben ritrovati, allora siamo all'inizio della nostra masterclass di SQL Server Express, allora qui vediamo un po' di programma che vi ho già presentato, andrò a definirlo nel dettaglio man mano che andrò avanti con le lezioni, quando terminerò il corso come sempre farò una lezione accompagnatoria che si chiamerà lezione 0 dove illustrerò il corso per intero. Quindi fin tanto quando non avrò finito il corso sapete che vedrete i vari punti che cambieranno nel tempo, li cercherò di adattare il meglio possibile. Oggi andiamo a vedere che cos'è SQL Server Express, cosa mi offre questo prodotto, che differenza c'è tra questa versione che è free perché è un software che possiamo scaricare totalmente gratuito e possiamo utilizzarlo senza nessun remore che qualcuno ci dica niente. Ovviamente è un software della Microsoft ed è un database. Allora poi qua sotto in descrizione trovate il link che sto per mostrarvi. Praticamente andando qui sul sito della Microsoft arriviamo alla documentazione tecnica di SQL Server. Qui possiamo trovare un po' di tutto veramente, di solito vi faccio una lezione più avanti nel corso ma questa volta ve lo faccio vedere subito. Quindi prendete pure il link che vi metto qui in descrizione, prendetelo, entrate e guardate un po' cosa c'è. Ovviamente qua su se non sapete il trucchetto di Microsoft qui c'è scritto IT IT. Se per caso lo aprite in inglese ci sarà scritto EN US, basta cambiare in IT in IT e se il contenuto è disponibile in italiano si trasforma tutta la pagina in italiano. Così l'ho fatto anch'io. Allora qui come dicevo ci sono vari contenuti e questa è la nostra libreria per vedere un po' qualsiasi cosa. Difatti qui c'è la pagina introduttiva dove vai a dare i macro temi. Poi posso vedere lo sviluppo, ad esempio l'installazione, fa vedere la panoramica, la nota sulle versioni, come installare SQL Server eccetera eccetera eccetera. Qui trovate un po' tutto. Allora, una premessa, cos'è SQL Server? Praticamente è un motore, è un database che ci permette di immagazzinare in esso delle tabelle, delle informazioni. Quando noi installiamo questo strumento installiamo un'istanza di SQL Server. All'interno dell'istanza noi possiamo andare a creare tanti database quanti noi vogliamo e all'interno dei database possiamo andare a creare delle tabelle. Oltre alle tabelle poi possiamo creare delle viste. Ipotizziamo di vederle come le query che facciamo su Power Query ad esempio oppure le query che facciamo in Microsoft Access. Quindi abbiamo le tabelle dove sono storati tutti i dati. E poi possiamo creare delle view con delle librerie specifiche dove andiamo magari ad assemblare un po' i dati che ci sono nelle tabelle. E poi magari con il nostro strumento di Excel o con Access o con quello che volete ci colleghiamo al nostro SQL per andare a leggere queste informazioni. Però da un ambiente dove è fatto per memorizzare i dati. SQL Server non serve solo come strumento di database per memorizzare i dati. Possiamo anche scrivere delle procedure con il linguaggio T-SQL. È il suo linguaggio di programmazione. Poi SQL Server dispone anche di un agent che ci permette di schedulare eventuali programmi che facciamo all'interno di SQL Server. Ovviamente qui quando andiamo a programmare è tutto a codice appunto con il linguaggio T-SQL. Non è come un Power Query che è tutto con i bottoni e è abbastanza semplice da utilizzare. Si possono praticamente fare le stesse cose. Sono due ambienti diversi però il fine è comunque di fare un ETL, quindi una trasformazione del dato con una procedura di SQL per ottenere un dato finale che poi andremo a disporre nei nostri report. Per poi tranne delle conclusioni sui dati che andremo a leggere. Allora andiamo a vedere le versioni di questo database. Quindi se noi qui andiamo su panoramica, andiamo su edizioni e funzionalità e premiamo direttamente sulla 2019, ci compare questa paginetta qua. Allora qui appunto ci dice le varie versioni che esistono per SQL Server. Quindi facciamo anche un po' di zoom così magari leggete meglio anche voi. Vedete qui c'è praticamente l'Enterprise che è la versione che costa di più in assoluto. Andate sicuramente dai 3, 5, 6 mila euro al mese in su con questa versione qua. Però è potentissima, veramente di tutto. Vi permette anche per dire di comprimere il dato fino a 34 volte rispetto alle versioni standard ed express che ovviamente l'express è gratuita. E tra poco vi faccio vedere anche altre differenze. Questa ovviamente è una versione che va bene per aziende che hanno una mole dati cospicua, che devono gestire tanti processi e che hanno tabelle appunto grosse. Quindi anche per la crittografia del dato l'Enterprise offre servizi in più, più sicuri. E ha un sistema molto più stabile, più potente e tutto quanto. La standard è la via di mezzo tra quella costosissima e quella gratuita che dà parecchie limitazioni. Quindi con lo standard se non dovete fare grandi cose vi basta finché volete. Qui io penso che starete così occhio e curioso e poi dipende sempre dovete sentire a max per i costi. Ma secondo me starete su 1.500-3.000 euro al mese forse. Poi le cifre cambiano sempre, però comunque ha sempre i suoi costi perché è comunque un database molto affidabile e che dà parecchie garanzie sul dato e funziona veramente molto bene. Poi c'è la parte web che non ci interessa per quello che stiamo guardando noi. La parte develop offre tutto quello che promette l'Enterprise, però come vedete qui dice che rappresenta la scelta ideale per chi desidera compilare e testare applicazioni. Quindi ne ha consentito l'utilizzo solo come sistema di sviluppo e di prova e non come server di produzione. Quindi attenzione se scaricate questa versione qua. L'Express è la versione libera a tutti. Ha parecchi limiti, tra poco ve li mostro, però è scaricabile. Potete iniziare a imparare a utilizzare il SQL e potete anche gestire un ambiente senza costi aggiuntivi. Se non avete grosse esigenze sicuramente questa soluzione qua vi potrà aiutare molto. Basti pensare che se avete Microsoft Touch, se siete abituati ad utilizzare quello strumento come database che ha 2 giga di limite per ogni singola database e poi esplode. Eventualmente potete fare anche più file per aumentare questa capacità. Però una tabella al massimo 2 giga di dati può contenere. Una query al massimo 2 giga di memoria può elaborare. SQL Server Express è gratuito e ogni singolo database che è creato all'interno della sua istanza può contenere al massimo 10 giga di dati. Che non sono comprimibili, quindi sono 10 giga come ipotizziamo di metterli su un CSV, sono 10 giga puliti. Però sono comunque 5 volte di più di quelli che ha un database di access. Poi potete costruire sempre tutto quello che volete, potete farvi le view, le tabelle, le librerie, le store procedure e fare un po' tutto quello che volete. Poi magari se un domani avete bisogno di più capacità potete fare l'upgrade alla versione successiva. Quindi va bene anche per iniziare perché dopo potete comunque upgradare sicuramente nella versione più potente. Le future dell'Express ci sono tutte, quindi sicuramente vi andrà tutto senza nessun problema perché andate verso il meglio. Quindi queste sono un po' le versioni che ci sono. Noi per questo corso ovviamente studieremo l'Express che è la versione libera a tutti e quindi potrete seguirmi sicuramente sull'apprendimento dello strumento perché potete scaricarvelo e installarvelo anche sul vostro computer. Dopodiché vediamo un po'. Qui ci sono i componenti. Allora, qui c'è ad esempio il motore di database di SQL Server che è proprio quello che noi andremo ad installare. Analisi service, reporting service, integration service e così via non li guarderemo in questo corso qua. Sono altri strumenti molto utili che vanno accompagnati al database. Basti pensare solo all'analisi service per dire che è la Power BI. La Power BI praticamente, per capirsi, Power Query più Power Pivot sono praticamente l'analisi service. Molto più evoluto di quello che abbiamo in Excel, molto più evoluto di quello che abbiamo sulla Power BI Dexter Mobile. Perché noi creiamo qui il nostro universo e poi quello che noi creiamo qui con la Power BI in analisi service, leggendo i dati dal nostro SQL, poi è fruibile sia dalla Power BI Dexter Mobile che dal nostro Excel piuttosto che da altre piattaforme come React, BusinessObject o altre piattaforme che hanno il connettore per connettersi ad analisi service. Ma questo è uno, era solo per farvi un esempio. Poi qui ci sono altri componenti. Andiamo poi sotto. Ci serve anche uno strumento di gestione del nostro componente. Quindi nel nostro corso noi utilizzeremo SQL Server Management Studio, che è lo strumento che ci permetterà di collegarci alla nostra istanza SQL e lavorare all'interno di essa. Quindi noi installeremo SQL Server e installeremo il Management Studio. Anche qui ci sono altri strumenti di gestione, però tutti questi strumenti non andremo a guardarli in questo corso perché è veramente tanta roba. Concluderemo poi con vedere anche questa parte qua, i componenti di connettività. Quindi consente di installare i componenti per la comunicazione tra il cliente e il server. Quindi noi abbiamo il nostro server di SQL Server che ha tutti i nostri dati. Dopo noi dobbiamo andare a leggere le informazioni che stanno all'interno del nostro SQL Server e per farlo abbiamo bisogno di un driver, un connettore, un po' come quello che vi accennavo per l'analisi service. C'è il connettore, io posso utilizzare Excel ad esempio per collegarmi a SQL Server e leggere i dati. Io vi farò vedere i connettori di OLEDB che non utilizzo, ve li sconsiglierò, ma comunque ci sono nativi, hanno la sua funzione. E i connettori ODBC, io uso la versione 17, comunque li scaricheremo e li installeremo insieme. Uso lo ODBC perché a mio avviso è un po' più veloce per i test che ho fatto io ed è più comodo se un domani il nome dell'istanza dovesse cambiare. Ma comunque lo vediamo nelle prossime lezioni questa cosa qua, approfondiremo bene anche questa tematica. Dopodiché se scrolliamo un attimino vediamo i limiti di scalabilità. Scusate, allora vedete, ad esempio qui vi dice la capacità di calcolo massima usata per singola istanza. Quindi per ogni istanza cosa posso fare? Con l'Express io posso, limitato a meno di un socket o 4 core, quindi posso usare un mio processore con 4 core. Se comincio ad andare sulla standard posso usare 4 processori al massimo con 24 core. Se ho l'Enterprise il valore massimo che ho nella mia macchina, ecco perché l'Enterprise mi promette di andare oltre se devo gestire certe cose. La standard però già avendo 4 processori e 24 core, se ci pensate non è poco come capacità di calcolo. Quindi se non dovete fare cose esigenti e esose di risorse vi basterà sicuramente anche la standard. Ripeto, l'Express vi dà un processore perché poi la licenza la pagate in base, se andate a prendere ad esempio un Enterprise, la pagate in base al numero di processori che avete perché segue quella cosa là. Non è che lui qui vi dice il valore massimo del sistema operativo, sì va bene. Però poi quando andate a comprare effettivamente l'Enterprise vi dicono quanti processori vuoi utilizzare, 4, 8, 16, perfetto la licenza la pagate in base ai processori che andate ad utilizzare. Quindi sono un po' furbi commercialmente su sta cosa qua, però ci sta perché comunque è un motore fatto molto bene e che costa molti soldi anche da svilupparlo. Però è bello per noi che possiamo comunque utilizzare 4 core e un processore, quindi non è poco se ci pensate, a meno che non dobbiate lavorare con tante persone e con tanti dati insomma. Poi vediamo anche qua, vabbè qua si parla di annulli di service e la stessa cosa, fa riferimento di quello che dicevamo prima. Il motore di database memoria massima che si può andare ad utilizzare. Allora noi qui possiamo utilizzare 1,4 GB come limite sulla memoria. Io non ho mai testato questo limite anche perché io lavoro con l'Enterprise. L'Express l'ho usato forse 10 anni fa quando ero partito anch'io. Però vediamo che ad esempio la standard mi permette di arrivare ad un utilizzo di 128 GB che non è tantissimo, però è tanto insomma. Con 128 GB di utilizzo ne fate girare parecchie di query prima di andare ad esaurire questa risorsa qua. Invece l'Enterprise anche qui ovviamente va dietro la copia di processori tendenzialmente, però potete andare su quanto volete. Per dirvi il SQL Server che gestisco io al lavoro arriva a 256 GB di memoria. Con tutti i servizi, con tutte le query, le procedure che facciamo girare ogni tanto le intasiamo, andiamo a sopare su disco, però comunque facciamo tante cose insomma per arrivare a quella capacità là. Qui sapete che avete 1 GB e 4 di memoria, non di spazio. Poi qui abbiamo la cache, ovviamente la cache con la memoria veloce che ci aiuta a correre di più. Sull'Express abbiamo 352 MB, è pochetto, però insomma ci basta per imparare e l'Enterprise vediamo sempre che abbiamo tutto illimitato. E la standard ci dà comunque 32 GB che non sono per niente male. Poi andiamo un po' più giù, qui si parla di Analysis Service, qui Reporting Service lasciamo stare, e poi c'è la dimensione massima del database relazionale che è proprio quello che ci interessa di più. Come vedete l'Express, come vi accennavo prima, vi lascia per ogni singola database, quindi voi installate il SQL, l'istanza potete mettere anche 10 database. Ogni database può contenere fino a 10 GB di dati, quindi potenzialmente potreste gestire una tabella che contiene massimo 10 GB di dati. Se andate oltre, si ferma, dovete andare alla versione superiore. Qui vedete che poi quando andate sulla standard sono 524 petabyte, un petabyte è un milione di giga, quindi qui proprio non avete problemi di spazio. Se andate già dalla standard poi l'Enterprise è identico, non avete limiti sullo spazio che potete andare ad utilizzare all'interno del database. Poi andando più giù, adesso io non sto qua a guardarvi e a spiegarvi anche queste cose qua, se avete piacere ve le approfondite, vedete un po' le varie differenze sulle varie versioni. Ce ne sono proprio tante direzioni per quello che non sto qua a guardarvele e a spiegarvele tutte. Comunque qui trovate appunto tutto quanto. Quindi diciamo noi, riepilogando cosa abbiamo capito in questa prima lezione di introduzione, che andremo a installare un componente che è il nostro SQL Server e poi vi farò vedere attraverso i servizi di Windows come attivarlo. Poi attraverso il Management Studio ci collegheremo a questo database, ok, per poter lavorare all'interno di questo database, creeremo dei database, delle tabelle e così via. E poi installeremo anche dei driver che ci permetteranno di comunicare con i nostri tool di front-end, ad esempio l'Excel o l'Access, ci permetteranno di comunicare con i contenuti che stanno all'interno del nostro SQL. Bene, con questa lezione di teoria è tutto, come sempre mi conoscete, parto sempre con la teoria, ma poi vi ricordo che a parte le prime lezioni che un po' di teoria, un po' installiamo il software, dopo è tutta pratica, quindi si scende proprio nel vivo del software e sicuramente l'apprendimento sarà molto veloce. Spero sia stata utile, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!